ciao a tutte e ciao a tutti faccio questo video perché oggi vi dico una cosa che vi sembrerà strana dopo svariate valutazioni ma vi dirò dopo il perché ho deciso di andare a frappare la macchina voi direte ma come il rosso non ti piace oggi andrò al centro stack di como vi lascio sulle spine e lo scoprirete più avanti nel prossimo video il perché ho deciso di fare frappare la macchina so che sembra ma come il colore rosso bello è tutto il perché lo scoprirete alla prossima qualche entrò stack di como dove lascio la mia auto per fare la brappatura ormai ho preso questa decisione niente la voglio fare per i miei svariati motivi questo è tutto il centro dove viene fatta la lavorazione eccola questa qua è la mia auto attualmente come adesso resterà qui circa una settimana di lavoro e poi verrò a riprenderla più o meno appunto sette giorni dopo c'è tutto un lavoro da fare enorme ci saranno delle critiche positive e negative ma lo vedremo poi più avanti ciao e al prossimo video se il video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornato